Ragazzi rieccoci al webinar collettivo, al corso fotovoltaico tutti insieme è una cosa che faccio ogni tanto, di solito ogni 3, 4, 5, 6 mesi questa volta l'ultimo risale veramente a data antica e ragazzi è una questione di tempo, una questione di volontà anche legata al fatto che ho veramente tantissime cose da fare tantissimi video sul canale e avete visto che sto viaggiando anche in tutta Italia per farvi vedere come gli amici del canale realizzano i loro impianti ebbene siamo al quarto corso fotovoltaico è un corso collettivo, cosa significa? che saremo tutti insieme per coloro che non hanno mai partecipato adesso vi darò tutta una serie di spiegazioni allora come funziona? intanto siamo sulla piattaforma Zoom che tutti conoscete si installa gratuitamente sia su telefonino che su PC quindi potete utilizzare il meccanismo che volete saremo tutti in videoconferenza quindi ci vedremo e vi pregherei anche di restare attivi con la videocamera in modo da vedere le facce di chi fa le domande perché sennò rimane una cosa tutta buia e deprimente saremo su un'unica facciata quindi il numero di coloro che parteciperanno vorrei fosse ridotto quindi non permetterò che saremo in troppi il che significa che ci vedremo tutti sul video senza dover sfogliare pagine assolutamente che cosa succederà praticamente tutte le domande che avete da fare per cui non vi sono bastati i video e avete domande personali domande anche curiosità legate a che cosa? alle configurazioni, ai settaggi, al tipo di installazione alle dimensioni dei cavi piuttosto che insomma tutto quello che avete nella vostra testa per realizzare il vostro impianto ebbene potete stenderla su un foglio e fare le domande come avverrà? ebbene le domande saranno singole quindi io vi chiamerò personalmente, singolarmente e tutti avranno risposta alle loro domande dico sempre che il corso di solito dura 4-5 ore ma ragazzi prendetevi il sabato libero dalle 10 di mattina e non prendetevi impegni se no siete costretti come alcuni amici del canale è successo negli ultimi webinar che hanno detto Gianni devo andare ma io starei ancora e gli altri che sono rimasti si sono fatti altre ore insieme perché ragazzi non lo so sarà la passione una cosa ma sono instancabile e alla fine ho detto ragazzi avete altre domande? no Gianni volete andare via? sì Gianni cioè eravate stanchi voi ragazzi questo per me è un successone oramai con questa esperienza mia maturata nel fotovoltaico, eolico, idroelettrico e quant'altro dal 1980 è come se avessi per fare un paragone un foglio Excel dove ascisse e ordinate mi vanno a far dare risposte rapide, sintetiche e poi soprattutto sempre oneste a tal proposito se qualcuno di voi avrà domande particolari di cui io non sono a conoscenza ebbene farò una ricerca personale successiva e risponderò poi a voi personalmente per quelle che sono le domande irrisolte in seconda fase su Messenger fino ad oggi non è mai successo ma ragazzi non siamo indubbiamente infallibili e la conoscenza è talmente vasta per cui pretendere di sapere tutto è un'arroganza bene ragazzi su Zoom ha un costo ed è la metà del costo dei webinar personalizzati però nel webinar personalizzati siamo ore insieme a studiare il vostro impianto quindi è molto più concentrato molto più potente questo qui è collettivo la cosa bella qual è di questo collettivo che a volte si fanno domande e alcuni amici del canale dicono ah non sapevo neanche che ci fosse questa domanda ed è così perché soprattutto coloro che non hanno conoscenza non sanno a volte neanche che domanda fare allora la domanda di uno era la domanda di un altro ma di cui non sapeva l'esistenza ecco che diventa molto collettivo diventa molto condivisivo in tal modo la cultura si espande la cultura la cultura che riguarda questo canale cioè produrre la propria energia elettrica si va a divulgare tra tutti voi partecipanti l'appuntamento come avete visto nel titolo è il 18 maggio sabato 18 maggio dalle ore 10 mi raccomando pigliatevelo libero quello che non avverrà su questo canale sono domande legate allo scambio sul posto a quelle che sono tutte le connessioni del GSE eccetera perché questo canale nasce per il fai da te attenzione le domande burocratiche non avranno risposta perché questo è un canale fai da te quindi se posso installare se posso mettere se c'è la paesaggistica il centro storico quelle sono sempre locali a volte dipendono dai comuni dalle amministrazioni dalla provincia dalla regione dall'italia dalla nuova legge dalla legge che è uscita oggi e dalla legge che esce domani rispetto a quella che è uscita stasera quindi non c'è un update e non c'è una volontà di questo canale ovvero mia di rispondere a domande che sono fuorvianti cioè ci fanno uscire dal parametro fondamentale di questo canale cioè produrre la propria energia elettrica con le fonti alternative a tal proposito vi dico una cosa quali sono le fonti alternative? sono quelle che provengono dalla natura e che non turbano gli elementi naturali ebbene ragazzi per me sono tre le fonti primarie naturali cioè il sole l'acqua e il vento ci sono altre forme come i geyser quindi le pressioni che vengono dalla terra non sono trattate su questo canale perché sono molto particolari sono insomma non si può fare un fight-at-te con i geyser anche perché sono zone circoscritte limitate eccetera riassumendo ragazzi questo webinar collettivo riguarda coloro che sono principianti e che sono già capaci perché le domande sono sempre tante sono infinite sull'energia alternativa come avviene adesso la cosa? voi dovete contattarmi su Messenger oppure sulla mia email personale e io vi mando questo form dove c'è la spiegazione anche il link di installazione di Zoom insomma tutto ciò che vi serve per potervi connettere in videoconferenza tanti che hanno partecipato le scorse volte si sono già ancora iscritti perché ho fatto uno short sempre su YouTube e non solo dove avevo già accennato due giorni fa la partenza di questo webinar quindi sono già partiti in quarta niente è un messaggio molto semplice molto corto ci vediamo preparate le domande per iscritto questo è importante pigliatevi il sabato libero iscrivetevi a questo canale questo è un webinar dedicato a tutti gli iscritti voglio premiarvi perché ragazzi mi sostenete sempre in maniera molto importante con l'iscrizione anche con la donazione su paypal anche con i vostri commenti con tutti i supporti e avete visto dei tanti amici del canale che stanno realizzando i propri impianti ne sono veramente veramente contento perché la mission di questo canale è proprio aiutare chiunque a realizzare il proprio impianto fotovoltaico eolico eolico idroelettrico è partita la nuova serie sull'idroelettrico ragazzi non perdetelo perché il prossimo video che sto montando sull'idroelettrico sarà un documentario incredibile e io stesso che l'ho realizzato mi sono stupito di quanto sia culturale per tutti voi ragazzi è tutto qua vi aspetto nelle mail o sul messenger per chiarire tutti per darvi anche il link del paypal per darvi il link di zoom preparate i pc o i telefonini e ci vediamo sul webinar collettivo il 18 maggio sabato 18 maggio dalle ore 10 buona giornata